e andiamo ragazzi andiamo cosa vi ho detto nel video di ieri sera dopo la grande partita di ieri che la juventus non avrebbe vinto la supercoppa italiana e così è stato così è stato 3 a 1 lo stesso risultato che hanno ottenuto nella partita di campionato di circa tre settimane fa queste sono le grandi soddisfazioni queste sono le grandi soddisfazioni un altro piccolo regalo di natale che si aggiunge a quello di ieri mamma mia sono troppo contento troppo contento ah ieri 4 a 1 eh sì ieri 4 a 0 e tutti a casa oggi 3 a 1 e tutti a casa grazie Lazio grazie Lazio grazie Lazio mamma mia ah e vabbè vabbè bene so che si è iscritto un altro amico lo saluto lo ringrazio quindi mi raccomando continuate ad iscrivervi e a seguirmi e come detto ieri a natale ci sarà una piccola sorpresa per voi non vi dico altro ciao grazie a tutti